Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa torta mousse ai tre cioccolati. Questa meraviglia è veramente facilissima e velocissima da preparare. Poi non la si deve cuocere, non servono né uova, né zucchero e né farina. Questa torta veramente è una meraviglia. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per la base della nostra deliziosa torta ci serviranno 300 g di biscotti Oreo Crispy e 60 g di burro fuso di qualità. Per prima cosa frulliamo i nostri biscotti nel mixer. Dopodiché aggiungiamo il nostro burro e mescoliamo il tutto finché non diventa un composto omogeneo. Qui con noi abbiamo una teglia con diametro di 18 cm e foderata sulla base con carta da forno e sui lati con acetato imburrato. A questo punto prendiamo il nostro composto, lo trasferiamo lì e lo livelliamo per bene, sempre aiutandoci con la nostra spatolina. Fatto ciò mettiamo il tutto in frigo fino al momento del bisogno. Ora vediamo insieme gli ingredienti per la prima mousse, ossia 300 ml di panna, 150 g di cioccolato fondente al 72% tagliato in pezzetti e 5 g di colla di pesce. Ora mettiamo la nostra colla di pesce per 10 minuti nell'acqua fredda. Per prima cosa prendiamo 140 ml di panna dai totali e le mettiamo in un pentolino a scaldare sul fuoco finché non sfioreranno il bollore. Quando la panna ha sferato il bollore, prendiamo la nostra colla di pesce e la scoliamo un pochino aiutandoci con le mani. Poi la aggiungiamo alla panna e mescoliamo un pochino aiutandoci con la nostra pallettina. In modo che si scioglia per bene. Poi aggiungiamo il cioccolato e mescoliamo continuamente finché non si sarà totalmente assorbito. Poi trasferiamo il nostro composto in una ciotola più capiente e mettiamo tutto in frigo a raffreddarsi. Ora montiamo per bene la nostra panna rimanente a velocità media aiutandoci con le nostre fruste. Quando avremo finito di montare la nostra panna la dobbiamo mettere un attimino da parte perché dobbiamo montare la nostra crema al cioccolato con le fruste elettriche. Dopo aver montato per due minuti la nostra crema al cioccolato non ci rimane altro che aggiungere poco alla volta la nostra panna e continuare così finché non la finiamo tutta. Abbiamo tirato fuori dal frigo la nostra teglia e ora andiamo ad aggiungere la nostra mousse, sempre aiutandoci con la nostra spatolina, poi la livelliamo per bene. Fatto ciò mettiamo tutto in frigo per mezz'ora. Per la seconda mousse ci serviranno 300 ml di panna, 150 g di cioccolato al latte tagliato a pezzetti e 5 g di colla di pesce. Applichiamo lo stesso procedimento di prima. Finiti di fare tutti i passaggi della mousse al cioccolato al latte non ci rimane altro che prendere una spatolina, eliminarla completamente dalla nostra bollo, livellarla per bene con una spatolina e metterla in frigo per mezz'ora. Per la terza mousse ci serviranno 300 ml di panna, 150 g di cioccolato bianco tagliato a scaglie e 5 g di colla di pesce. Applichiamo lo stesso procedimento delle altre due mousse. E dopo aver finito di fare la nostra ultima mousse non ci rimane altro che trasferirla sopra la mousse al cioccolato al latte e livellarla per bene, sempre aiutandoci con la nostra spatolina. E dopo aver livellato la nostra mousse per bene, non ci rimane altro che coprirla con la pellicola alimentare trasparente e lasciarla riposare in frigo 6 ore oppure, molto meglio, tutta la notte. Ed ecco qui come si presenta la nostra torta dopo una notte di riposo in frigo. Ora procediamo alla decorazione. Come decorazione abbiamo scelto di fare un cono di cioccolato. E ora con i tre cioccolati della nostra torta andiamo a fare delle gocce, partendo da quello fondente. Ora riempiamo a piacimento il nostro cono con frutti di bosco. Noi abbiamo scelto Lamponi Amore. Ma guardate com'è venuta bene la nostra torta ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presenta dentro. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio! E adesso ci gustiamo questa meraviglia di una torta! Mamma mia ragazzi, è stupenda! È leggera, spumosa, i tre cioccolati sono perfettamente bilanciati. Poi c'è questa base croccante che è veramente meravigliosa e che completa il tutto. Insomma ragazzi, è veramente stupenda, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia. E noi auguriamo a tutti una splendida giornata! Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!